Sono diverse le iniziative pensate dal Comune di Pescara per la giornata dell'Epifania, quella che conclude le feste di Natale. Dalla Befana Chebian dal Mare dell'Associazione Salvamento al Porto Turistico Marina di Pescara, al presepe vivente di Luciano Cupido al Pala Elettra 2 con musiche, danze e costumi dell'epoca in Israele. Nella conferenza stampa di oggi l'assessore al turismo e ai grandi eventi Giacomo Cuzzi ha anche ricordato che il 5 e 6 gennaio ci saranno gli ultimi due appuntamenti con il videomapping in Piazza Salotto, ma intanto pensiamo alla Befana. Pescara essendo una città di mare, la Befana viene dal mare, ovviamente arriverà su una sua imbarcazione accompagnata anche da dei gufi, arriverà alla Befana presso il porto turistico di Pescara dove attenderà tantissimi bambini con la completa sicurezza di oltre 60 bagnini presenti oltre che anche i cani di salvataggio della SIX. La Befana scenderà e quindi donerà a tutti i bambini presenti un dono natalizio. Durante la manifestazione, durante questo evento ormai che riscuote tantissimo successo sarà anche la presenza dei cavalli che arriveranno direttamente dal ponte del mare. Ovviamente scegliamo il porto turistico perché è una delle zone veramente a parte belle ed attrattive ma molto sicure per quanto riguarda l'incolumità delle persone. Il marino di Pescara accoglie di nuovo la Befana in un giorno che però è anche un giorno particolare. Un giorno di festa che purtroppo è in concomitanza con un giorno triste perché in quel giorno ci lasciò purtroppo Daniele Becci, un amico, un grande presidente della Camera di Commercio un uomo che credeva tanto nel proprio territorio, che voleva unificare il territorio e il suo progetto, il suo obiettivo è stato realizzato proprio dopo pochi giorni ci ha lasciato unificando appunto la Camera di Commercio che oggi è Camera di Commercio di Pescara. Lui credeva tanto in questo territorio, ha voluto fortemente tutti gli eventi che si organizzavano al Marina di Pescara per promuovere appunto il Marina di Pescara e la città di Pescara e quindi anche quest'anno sicuramente lui dall'assù sarà felice di vedere tutti questi bambini che accorreranno al Marina a raccogliere i doni della Befana che arriverà dal mare.